Da domani 5 di gennaio fino al primo marzo cominciano i saldi invernali per quello che riguarda la regione Marche, un momento sempre molto particolare per gli operatori commerciali. Chiediamo ad Agnese Trofelli, vice direttrice di Commercio Marche Nord, che cosa si aspettano proprio gli operatori da questa importante finestra di vendite? Sì, allora per quanto riguarda Inzio dei Saldi per ora adottiamo un prudenziale entusiasmo, nel senso che sono anni oramai che i saldi non hanno quella spinta emotiva di qualche anno fa. Ci aspettiamo sicuramente che le persone possano riuscire a tornare nei borghi, nelle città, ad acquistare sempre nei negozi sotto casa il capo d'abbigliamento, l'accessorio piuttosto che il gioiello o anche il device elettronico che hanno visto che costava qualcosina in più, con i saldi, magari più appetibile, si riesce a fare quell'acquisto che c'eravamo negati per via delle finanze familiari. Sicuramente non è un periodo facile né per gli operatori né per le famiglie, quindi si tende ad un risparmio maggiore, nonostante in futuro ci si aspetta che ci sia una diminuzione dei costi per le imprese e per le famiglie legate a bollette, rincaro gas, energia elettrica, eccetera. Per quanto riguarda i dati, che sono sempre molto molto oggettivi e quindi danno una panoramica più o meno reale di quello che ci spetterà da domani fino al primo di marzo, noi abbiamo sei marchigiani su dieci che acquisteranno un capo di abbigliamento o un accessorio in vista dei saldi. La spesa per ogni singola persona si aggira sui 130 euro, euro più, euro meno, e quindi a famiglia si parla di circa 300 euro, che è sicuramente una boccata d'ossigeno per le imprese in termini di liquidità, non in termini di guadagno, ma che permette di andare a sopperire a tutte quelle mancanze avvenute nei mesi precedenti. Quindi diciamo così, una ritrovata liquidità, almeno fino al primo di marzo, che dà quella sensazione di continuare e di poter far bene per le proprie imprese e città. Questo dovrebbe essere lo spirito che deve seguire da domani i saldi fino al primo di marzo. Avete invece già una percezione di come è andato lo shopping natalizio rispetto alle annate precedenti? Allora, shopping natalizio fino alla settimana, poco prima di Natale, non era partito proprio in pompa magna, nel senso che c'era del movimento ma ha piovuto praticamente fino al 15 di dicembre, quindi in realtà le persone si muovevano anche meno o poco da casa. Dopodiché c'è stata la fuga alla corsa ai regali di Natale, quindi fino al 24 circa avevamo centri storici, borghi molto animati e acquisti anche abbastanza importanti, non legati ad importo ma magari a quantità, importi più piccoli ma quantità magari anche maggiori, per poi invece andare scemando nel post Natale quando ormai tutto era fatto. Speriamo appunto che ora si possa riprendere da domani fino al primo di marzo con nuovi acquisti e quindi nuova liquidità. In un settore, il commercio, che è sicuramente, diciamo così, vessato da diverse situazioni, tra cui anche, non so, il commercio online, che non è che non ci debba essere, ma sicuramente ha preso più parte rispetto a quello dello shopping sotto casa, cioè dell'uscire e acquistare dei negozi, e che ha perso un po' di appeal, non tanto il commercio, quando il saldo in sé per sé, per via delle promozioni continue che ci sono durante l'anno, se si pensi, non so, al Cyber Monday piuttosto che a Black Friday, ci sono continuamente opportunità di acquistare capi di abbigliamento, dei vesti elettronici a prezzi scontati, che diciamo così, che la rincorsa al saldo viene poi magari meno.